E' stato presentato oggi a Lecce il rapporto annuale dell'economia della Puglia nella sede della Banca d'Italia di Lecce. Nel 2021 l'economia pugliese ha registrato una sensibile crescita estesa a tutti i principali settori, dopo il forte calo dell'anno precedente dovuto all'insorgere della pandemia. Nei primi mesi del 2022 la ripresa ha preso slancio, risentendo del deciso aumento dei prezzi dei beni energetici e di materie prime, intensificandosi a seguito lo scoppio del conflitto in Ucraina. Secondo le stime dell'indicatore trimestrale delle economie regionali sviluppato dalla Banca d'Italia, nel 2021 l'attività economica sarebbe aumentata di circa il 6%, in misura lievemente più contenuta rispetto alla media nazionale. La crescita particolarmente intensa nel secondo trimestre ha rallentato nella seconda metà dell'anno a causa soprattutto delle tensioni nelle catene di approvvigionamento e dell'incaro dei beni energetici e di altre materie prime. Tra gli altri il resto conto sull'economia puliese è stato presentato da Angelica Pagliarulo, direttore della filiale di Lecce della Banca d'Italia.